E' un avventuriero, uno scrittore, un presentatore televisivo, un Boy Scout e decisamente un malato di mente, senza controllo. Si guadagna da vivere, mangiando merdate nei boschi, violentando orsi e succhiando vermi. Lui è quello di Wilde, lui è Beer Grills. E queste sono le sue eroiche gesta. Ogni volta che un ghiacciaio si scioglie, Beer Grills raccoglie tutta l'acqua nella sua borraccia, scava un nuovo fiume e costruisce una diga con la sola forza delle sue mani, dalla quale fare bungee jumping nei tardi e noiosi pomeriggi d'estate, senza elasti. Tutte le volte che Beer Grills sente l'impulso sessuale farsi più forte, scava un buco nella foresta, caccia un urlo per svegliare i mammiferi in letargo, infila il suo immenso uccellone sotto terra e se lo facciuppare dai ghiari che fanno il pieno di vitamine per i prossimi tre mesi. Quella volta che Maometto si rompeva il cazzo di andare alla montagna, Beer Grills si è caricato sulle spalle l'Everest e gliel'ha portato strisciando sulle ginocchia con flora e fauna, compresa. J.J. Abrams ha svelato cosa fosse il letale fumo nero di Lost. Erano le scoregge di Beer Grills, dopo che aveva mangiato un macaco, vivo. Beer Grills ha un alito talmente pesante, che quando si fa i risciacqui col collutorio quest'ultimo evapora provocando piogge acide. Pare che il Bigfoot, lo Yeti e il mostro di Loch Ness possano vivere ma in gran segreto. Perché Beer Grills li ha minacciati di estinzione anticipata, se si azzardano a prendergli un'altra volta la scena. Una volta Beer Grills è sfuggito alle sabbie mobili, indiuttendo.